Ecco... Co che usano per controllare le armi biologiche. Grazie a tutti. Grazie. 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 Qui? Non ci credo. Grazie. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Per fortuna stai bene, Mia. Che ci fai qui? Mi hanno presa... e mi hanno analizzata. Ehi, ha detto Mia. Mia Winters. Proprio lei. Com'è la situazione lì? C'è una guerriglia in corso, niente di che. Non distraetevi. Seguite il piano. Vado al luogo della cerimonia. Aspetta! Non puoi lasciarmi qui! Avevi fatto una promessa! Hai detto che ci avresti protetti! Abbiamo fatto quello che volevi! Ci siamo persino trasferiti qui! E a me andava bene, purché rimanessimo insieme. Quindi ora dimmi, dov'è mio marito, Chris? E dov'è mia figlia? Ethan, scusa. Con lui ho fallito. Però posso salvare Rose. Andiamo. Questo posto non è sicuro. In che senso hai fallito? È morto. Mi spiace, Mia, ma dobbiamo andare. Dobbiamo distruggere il villaggio. No! Ti sbagli! Ho provato a tenerlo nascosto, ma... Tu non puoi capire quanto lui sia speciale.